Sarò brevissimo, però vorrei lanciare alcune provocazioni come il mio solito, d'altra parte ognuno ha un suo, diciamo così, ruolo da svolgere. Bene, cercherò di spiegare in pochissime parole perché oggi la televisione può essere un bene comune. Dopo tutte queste cose che ci sono successe in questi mesi, sembra un paradosso, però proviamoci. Voi sapete che quando si parla di futuro, se non si vuole fare dalla fantascienza, bisogna partire sempre dal presente. Ma da quale presente occorre partire? Da quel presente in qualche modo che non è ancora stato assimilato, sommatizzato come tale. E voi sapete benissimo che nell'immaginario delle maggioranze il presente della televisione è ancora il modello generalista. Ma nella televisione come medium è in corso, qui è per signo banale dirlo, una mutazione genetica di portata rivoluzionaria. Col digitale stiamo assistendo in qualche modo ad una ibridazione tra i maggiori mezzi di comunicazione, televisione, telefono e computer. E questa convergenza, questa interazione, non può lasciare nessun medium isolato, diverso, con caratteristiche proprie. Cioè, cosa vuol dire? Che il telefono serve più televisione e computer. Il computer è televisione e telefono. E anche la televisione sta subendo naturalmente una nuova mutazione. Il futuro, quindi, della televisione riguarda naturalmente i sviluppi della tecnologia. E non è un problema solo di contenuti o di regole consolidate. E allora io qui mi rifaccio a un articolo uscito proprio sul fatto, dopo naturalmente il programma di Santoro, tutti in piedi, in quale naturalmente è creato un po' di polemiche fra me e il professore Aldo Grasso, d'altra parte mio carissimo amico nemico, perché abbiamo litigato molte volte, ma c'è un rapporto di grande stima, il quale sostiene appunto che, malgrado questo programma che ha avuto tanto successo, nega Grasso la possibilità di costruire una televisione senza editore. E io ricordo solamente quello che ho scritto in questo articolo, in questo intervento, e che, dicevo che è un programma, quello di Santoro, che inquieta perché dimostra che, come si dice adesso, come ho sempre detto in queste ultime settimane, todo cambia, tutto cambia, non solo la politica ma anche i media. E tre ore e mezza di indiretta superano la televisione generalista e tradizionale, con il famoso editore noto e unico. Adesso la televisione viene dissolta in questa multipietraforma che esigua l'evoluzione tecnologica, ecco la commestione di digitale, analogico, satellitare, internet. Sulla questa possibilità di una televisione al di fuori della televisione, Grasso è d'accordo, ma nega la possibilità di costruire una televisione senza editore, partendo dalla costruzione che dice che la TV si regge sul palisesto, sulla regolarità, sulla formalizzazione dell'offerta. Condizioni tutte che secondo lui solo un editore professionista può garantire. Queste affermazioni, naturalmente sono d'accordo per capire perché ho fatto tanto su queste cose, riguardano però ancora una volta il modello consolidato dalla TV generalista. Ma proprio perché siamo nel centenario di McLuhan, ricordiamoci quello che ci ha insegnato noi, che il medium è il messaggio. E cambiando il medium cambia anche il messaggio, cioè l'organizzazione della comunicazione. Io ho lavorato sino ad ora in scenari totalmente diversi, la TV commerciale, delle origini, il servizio pubblico in Francia e in Italia, il digitale satellitare, il digitale terrestre, e ogni volta per costruire in qualche modo l'offerta, io ho sempre pensato, mi sono sempre prima interrogato sulle differenze di comunicazione che dettano in qualche modo, che dettavano le regole della programmazione. Non ho pensato ai contenuti da inserire, ossia questi pedagogici o divertenti o di nicchio di cult, prima di aver valutato in qualche modo le differenze strutturali. La televisione pedagogica del servizio pubblico è resa possibile da due fattori interconnessi con loro, la presenza dell'unico emittente e l'unidirazionalità del messaggio, che gli ispettatori non possono scegliere e discutere, ma solo accettare. Poi, la moltiplicazione degli emittenti non è problematica affinché tutte sono di proprietà pubblica, ma genera una rivoluzione nella programmazione, quando l'azione commerciale introduce un'alternativa di scelta. In qualche modo la rivoluzione dell'audience attraverso l'auditel capovolta completamente il rapporto tra emittente e pubblico, e crea una vera e propria rivoluzione copernicana, ma anche il digitale, la teoria della coda lunga, la fruizione di programmi su piattaforme diverse, dettano, secondo me, le proprie leggi di programmazione. E qui sta il punto fondamentale. E in tutto questo è vero, pensate un attimo, se due medium tecnicamente identici come il servizio pubblico e la tv commerciale sono completamente diversi, solo perché in qualche modo intrattengono con il loro pubblico un rapporto opposto, a maggior ragione, il futuro della televisione, ibridata con ogni tipo di medium, in qualche modo non può che risplicare in qualche modo il passato della tv generalista, siamo oltre, è alternativo. E il caso di Santoro, con tutti i piedi, ci ha dimostrato molte cose. Che il pubblico non è più passivo, lo era il pubblico della televisione pubblica, il pubblico della tv commerciale, che selezionava i programmi tra una gamma che gli veniva offerta, dettando contemporaneamente le regole della programmazione. Il pubblico invece, cresciuto sul net, è in grado di costruire da solo il proprio palinsesto, cercando quello che vuole, i suoi contenuti, su qualsiasi tipo di medium. Ecco, io ritengo questo un diritto, anzi, la fruizione, qui la novità su cui sto lavorando, la fruizione di un bene comune. Voi sapete che il concetto di comune, dopo il referendum, in qualche modo, è attualmente al centro del dibattito politico. Vorrei riferire qui, c'è un libro molto importante di Negri, sul comune fondamentale. Ma, la cosa interessante è proprio qui, seguitemi questa cosa perché è l'unica cosa interessante che posso dire, che il concetto di comune, nasce dal net. E questa è la cosa più importante, perché il referendum l'ha avuto così preso? Perché il pubblico, c'è il net che ha introiettato, sommatizzato quest'idea, e per cui come concetto di, è per il comune come concetto di condivisione, di intelligenza collettiva. E qui, ecco, la spiegola, la ritrattezza della politica, che non ho capito, c'era un mondo che cambiava, un'idea, questa qua, rivoluzionaria, fondamentale. E qua, e quindi, e qui io credo che esistano, esteso, anzi, ai beni primari, aria, acqua, cibo, torna ora, anche come richiesta di beni morali, l'informazione, e la libertà di espressione, che sono diritti umani basilari. Questa è la conclusione di questa lezione che il net ci ha dato. L'abbiamo introiettato questa cosa. Non si può più arrestare nulla. E se il nostro sistema tradizionale di comunicazione è ingessato dalla censura, ancora oggi, questa censura può essere girata con ricorso all'internet, così come già stanno facendo i dissidenti di tutto il mondo. Ma la domanda è, si possono costruire vere e proprie trasmissioni televisive non semplici post senza il supporto di un editore professionale. Questa è la domanda che tutti quanti noi dobbiamo porci da oggi. E questo è il problema. Io penso, o meglio, io spero di sì. Perché è un conto l'editore, è un conto invece il produttore, l'autore. E l'ostacolo a produrre televisione era legato sino ad oggi a costi proibitivi. Il digitale rende tutto più semplice, più economico e sulla risorsa a cui attingere l'acqua è la pubblicità. E non c'è bisogno di un editore. Ma perché i pubblicitari dovrebbero dare fiducia al nuovo prototipo di televisione che mi sono a posto? E anche qui ho le risposte dal net. Perché sul net la pubblicità è costruita su misura, è estremamente mirata e effettivamente più efficace del modello generalista. E quindi così anche la pubblicità esce dal suo ruolo apocalittico di persuasore occulto per diventare un servizio che suggerisce consumi su richiesta e su misura sulle, in qualche modo, su misura delle esigenze del consumatore. Quindi televisione come bene comune e quindi una rivoluzione totale rispetto ad oggi. Grazie.